Con il video di oggi vorremmo ringraziare tutti voi che vi siete iscritti dopo i 1500 iscritti e tutti quelli che c'erano prima per il supporto e il sostegno che ci avete dato in questi mesi meravigliosi in cui abbiamo creato il canale e in cui abbiamo creato tutti i video che abbiamo portato fino ad oggi. Grazie davvero per averci sostenuto sia che sia con un like, con una condivisione di un video, con un commento, quale che sia il contributo che avete dato, grazie davvero per averci sostenuto, senza di voi non avremmo mai potuto farcela. Quindi come sempre dedichiamo questo speciale a tutti voi. Quello che faremo oggi è semplicemente sparare un colpo per ogni iscritto al canale. Abbiamo qua 2000 colpi di mitraglie che faremo accendere da queste due piccole pirastar, da 2 a 2000. Siete più veloci dei corrieri che ci portano i botti per fare gli speciali. Sì veramente, vi scrivete quasi troppo velocemente. Grazie davvero a tutti, iniziamo a preparare. Grazie a tutti. Una pista d'atterraggio per elicotteri, col problema che se un elicottero poi dovesse atterrarci non sarebbe una gran cosa. Bene ragazzi, ancora una volta grazie per averci sostenuto in questo viaggio meraviglioso, grazie per aiutarci a continuare a far crescere il canale e niente, direi fuoco alle polveri e buon divertimento. Bene ragazzi, abbiamo fatto tutto il setup di telecamera, adesso partiamo con la stella più grande della storia, come sempre dedicata a voi. Sono 2000 colpi ragazzi, 2000 colpi di mitraglie da 500 colpi, una roba assolutamente folle. fuoco alle polveri. fuoco alle polveri. e e e e e e e e porca vacca che bordello mica raga un campo di battaglia figa che devasto bella ragazzi grazie ancora a tutti per aver creduto in noi per esservi iscritti al canale spero che questo speciale vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima